questa è World News Sport ventiquattro lunedì sport con Mimmo Siena eccoci qui buona giornata buona settimana ben ritrovati con lunedì sport come sapete il nostro appuntamento del lunedì dedicato alle sintesi delle partite degli eventi che eh seguiamo partiamo subito con il calcio con la Lega Pro nuova vittoria per eh la audace Cerignola contro la Viterbese per due a zero si conferma rivelazione di questo inizio di campionato ma scoppia il malumore del presidente Greco da matricola a rivelazione del campionato l'audace Cerignola continua nel suo bellissimo momento positivo anche se a fine partita ci sarà da registrare un duro sfogo del presidente Greco dopo la vittoria in rimonta per tre a due al Foggia domenica all'ora di pranzo ha battuto per due a zero nella quindicesima giornata della Lega Pro calcistica la Viterbese Garaghi si infiamma dopo quattro minuti ad opera degli ospiti con Spolverini i giallomlu Ovantini replicano con Aschic ben servito da Neglia fuori di un nulla i locali si vedono negare un rigore per un mani sospetto di un avversario al venticinquesimo su una furibonda vischia in aria Blondet primo gol con la maglia giallomlu in sacca per l'uno a zero dell'audace che va a esplodere il Montelisi più nulla fino all'intervallo nella ripresa la Viterbese si riva di nuovo sotto con un tiro di poco fuori di sconverini altre tre occasioni di gol per l'audace a prima di Rosso Neglia per Aschic dopo un altro gol negato per fuorigioco nel finale su ottima verticalizzazione di Allegrini D'Andrea chiude i conti e due a zero finale prossimo impegno per il gialloblu vicini alle zone alte della classifica contro il Potenza. Nella terza serata di domenica la società ha diramato una nota a firma del presidente Grieco che ha manifestato delusione e rabbia per i pochi spettatori presenti allo stadio l'orario era quello di mezzogiorno concludendo il suo spugo così. Quale futuro con questi numeri? A voi la risposta sono deluso e non escludo decisioni forti. E dunque non le ha mandate proprio dire la presidente nazionalizio giallo blu Nicola Grieco andiamo a vedere praticamente eh in in grafica e a tutto schermo quello che ha detto lo vedete 278 biglietti non giustificano una serie C e l'attuale posizione in classifica. Ci ho pensato più volte prima di diramare questo comunicato ma è il mio cuore a parlare. Non si può fare calcio così. Quale futuro con questi numeri? A voi la risposta. Sono deluso e non escludo decisioni forti. Dunque questo è il forte appello alla città del presidente del sottalizio giallo blu Nicola Grieco. Vedremo gli sviluppi nel corso delle prossime ore. E adesso andiamo a sentire la contendenza e l'emozione di Emanuele Blondet che è per la prima volta ha realizzato in Liga Pro il suo primo storico gol. Sentiamo. Sì, finalmente è arrivato il gol che dà una soddisfazione personale e dopo un po' di volte mai ci potevo essere andato vicino però quello che più conta è stato quello che abbiamo fatto anche oggi come collettivo, come squadra a livello di prestazione, a livello di intensità, di voglia di strappare il risultato e quindi è questo quello che poi inorgoglisce di più oltre che il gol personale. È stato facile ambientarsi qua perché qua si lavora da squadra e anche l'ambito è un ambito che ti fa sentire a casa, in famiglia e quindi tutto questo aiuta sicuramente a compattare la squadra, a compattare il gruppo, a compattare tutte le persone che lavorano con noi e ci sostengono e quindi questo ha facilitato anche il mio arrivo chiuso la parentesi dedicata alla Lega Pro adesso passiamo alle sintesi dedicate alla Pallavolos che è B2 femminile ottava giornata, continua il momento dedicato della Fenice Libera Virtus che è stata sconfitta ieri dalla vicecapolista del torneo Franca Villa per 3 a 0. Sconfitta al numero 7 per la Fenice Libera Virtus nell'ottava giornata della B2 femminile di volley, le Ufantine sono state sconfitte dalla Franca Villa della ex di lusso Manuela Morone per 3 a 0. Insieme a Costalinova e la Bianca ottengono un successo importante contro una squadra, quella Virtusina che al momento si trova in piena crisi di gioco e di identità. Nonostante i nuovi volti la Maggiarova non ha giocato mentre la forte ha provato a stare sul verso insieme a le sue compagne nuove, al posto di Drago Cirellino Pollo in panchina e ci ha provato ad indurre fiducia in un ingruppo troppo fiduciato sia a livello di gioco e psicologico. Ad indurre fiducia in un ingruppo troppo fiduciato sia a livello di gioco e psicologico. Qualche giocata apprezzabile si è vista ma nulla di più confermando il trend negativo di una vittoria e sette sconfitte, un bilancio preoccupante. Domenica 4 dicembre sfida al palladileo contro la capolista Fasano, una mission impossible, vincente 3 a 0 sabato scorso sulla pallavolo Cerignola. E la situazione è davvero preoccupante per la Peniccia Libera Virtus, lo possiamo vedere naturalmente anche dalla grafica della classifica, vedete terzo e ultimo posto con quattro punti, con una vittoria e sette sconfitte e come vedete anche in grafica c'è anche il cammino della pallavolo Cerignola che ieri è stata sconfitta dalla capolista Fasano per 3 a 0. Dalle emozioni del derbo vinto a una sconfitta pesante come un macigno. La pallavolo Cerignola perde giustamente nell'ottava giornata della B2 femminile di volley per 3 a 0 contro la capolista Fasano. Una sfida in cui le brindisine non hanno concesso nulla alle avversarie. Da Corallo vinci guerra e sollecito. Le troppi errori sia in battuta inguardabile in ovvia che in fase di ricezione. La pallavolo Cerignola nel corso dei 3 a 7 si è ritrovata sotto di parecchi punti. 7 12 nel primo, 6 15 nel secondo e 5 13 nel terzo. Non può bastare qualche giocata accettabile. Il livello tecnico fra le due squadre era evidente. Per questo la vittoria delle padroni di casa brindisine è sacrosanta. Adesso si ritorna in palestra per preparare la sfida interna del 4 dicembre contro la starvolley vincente. 3 a 0 contro i seri. E con questo siamo arrivati al termine di questa edizione di lunedì sport. Vi ringraziamo come sempre di essere stati con noi. Vi diamo appuntamento con l'informazione a questa sera con Dentro la Notizia. Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio a tutti. Le notizie, i servizi, e le edizioni dei TG sui nostri canali social, Facebook, YouTube, Twitter, questa è World News 24 TV. Porto Bandara di Grazie a tutti. Grazie a tutti